Buongiorno, eccoci a tutti. Il consueto appuntamento del giovedì dedicato alla salute e al benessere. Oggi parliamo di sicurezza sul posto di lavoro. Ne parliamo con William Pezzetta, che è segretario regionale della CGL. Paolo Mason, che è referente CISL per Udine e la bassa Friulana. Buongiorno, grazie per essere qui. Nella seconda parte di trasmissione avremo anche Leonardo Cacchione, della Pratica SRL, e Luigi Oddo, segretario della Wilm di Udine. Ringraziamo anche loro, li vedrete dopo, li abbiamo qui con noi. Allora, facciamo direi, con Pezzetto, con Mason, insomma, chi dei due preferisce. Partiamo da un'analisi della situazione. Ecco, ne ha parlato anche la stampa nazionale, anche la stampa nazionale si è interessata proprio alla nostra regione. Tanti casi, era da tempo che non si verificavano, tanti casi anche mortali. E poi volevo anche capire questo. Sono riconosciuti, o perlomeno la CGL, riconosce fra i casi legati alla sicurezza sul lavoro, anche gli infortuni che capitano per strada. Anche quelli in itinere, Pezzetta, questo me lo consiglio. Non solo a CGL, ma certamente riguardano anche questi, vengono conteggiati perché comunque stai andando a lavorare, insomma, però diciamo così, ovviamente quelli più cratanti e quelli che poi alla fine se ne parla anche nella stampa riguardano quegli infortuni proprio sul posto del lavoro, dove tu passi metà della tua vita e dove devi lavorare, ovviamente, condizioni che garantiscono il più possibile la sicurezza, che dipende da molti fattori, non solo dalle norme, dalle leggi che sono emanate, che sono importanti, ma secondo me, insomma, noi abbiamo una legislazione assolutamente completa, anzi, fin troppo secondo me, dipende molto anche da altri fattori, da come lavori, dall'organizzazione, da questa frammentazione che c'è al giorno d'oggi anche del mercato del lavoro, dalla precarietà, dal fatto che fai tanti lavori e ricambi, per cui manca anche il tempo per avere una formazione adeguata. Molti sono gli elementi che concorrono ovviamente ad alzare il rischio di infortuni sul lavoro, e purtroppo lo stiamo vedendo nel corso dell'ultimo anno e mezzo, quando un po' è ripresa anche, diciamo così, l'economia, e sono puntualmente, guarda caso, ripresi anche gli infortuni, tenendo conto che riguardano sempre una parte particolare, soprattutto, di rapporti di lavoro, guarda caso, sempre magari negli appalti... Quindi proprio corrisponde... ...nei contratti più deboli, ecco. E corrisponde al fatto che si è ripresa l'economia, più o meno, sì. Va di pari passo. Contanto che avevate lavorato anche in passato per cercare di evitare, si è perso tutto praticamente, bisogna continuare a lavorare, bisogna riprendere questo dialogo che avevate cominciato anche fra sindacati, lavoratori. Diciamo che l'attenzione non deve mai venire meno, perché comunque il luogo di lavoro sempre può essere un luogo a rischio, no? Dipende dai comportamenti, da tante cose, e dal rispetto di quelle che sono le regole minime. Ci vuole attenzione, rispetto delle regole, equilibrio. Il problema più grosso accade sicuramente negli appalti. Di norme ce n'è veramente sin troppe. Ce n'è veramente sin troppe. Basterebbero anche molto meno. Basterebbe che ci fosse la coscienza di tutti, dei lavoratori, delle imprese. Del fatto che uno lavora per vivere, non vive per lavorare, per cui deve ritornare a casa dai suoi cari, questo sarebbe sufficiente a far sì che si lavora con più attenzione. Io oggi ho fatto una passeggiata per Udine, stavo andando in un ufficio, e vedo i cantieri che ci sono in atto sul posizionamento della fibra ottica. Io credo che qualunque ispettore, qualunque vigilo urbano, perché è anche un vigilo urbano, che passa di lì dovrebbe bloccare il cantiere, perché stanno lavorando in condizioni veramente allucinanti. Cioè ci sono delle regole che vanno rispettate per la tutela propria, per la tutela di chi passa, che vengono disattese. Perché accade questo? Perché gli appalti al massimo ribasso fanno sì che i tempi... Da qualche parte devi risparmiare, lei dice, è lì che vuole arrivare lì. Il costo della sicurezza non può essere considerato sempre un di più, deve essere considerato un costo che fa parte integrante dell'appalto, del lavoro. Purtroppo non è così, no? Nel momento in cui si devono calare i prezzi per vincere l'appalto, la sicurezza diventa un qualcosa di superfluo. Dopodiché c'è anche la superficialità, la mancanza di esperienza, a me non accadrà mai, c'è un po' di tutto. Ma tutti noi, imprese, lavoratori, sindacato, tutti noi dobbiamo fare in modo che chi non rispetta le regole possa anche venire punito, no? Nel senso che io ti do tutti gli strumenti, mezzi per lavorare in sicurezza, se tu non lo fai... Non applichi. Se tu non li applichi, io devo in qualche modo sanzionarti, perché non può essere che tu fai... A me è capitato di passare in tanti cantieri dove, soprattutto nel mondo industriale, dove c'erano appalti... Ecco, ma in questi cantieri che ha visto lei, secondo lei appunto, lì, di chi è la colpa? Di chi dirige il cantiere? Del lavoratore? Di chi è? Dove sta? Eh, lì è il problema, no? Vedo... Allora, oggi... Allora, diciamo che l'impresa deve fare in modo che il lavoratore lavori in sicurezza. Cosa significa? Significa che tu devi creare una recinzione, se c'è un giambo, una palameccanica, ci deve essere una difesa, nel senso che io non devo poter... Chiunque non può accedere per entrare in un cantiere devi avere l'autorizzazione ed oltre ai cartelli ci deve essere una recinzione, ma non una recinzione qualunque, deve esserci una recinzione adeguata che comunque ti impedisce ad entrare. Il cancello... Tu puoi varcare il cancello se chiedi permesso e puoi entrare. Se noi andiamo in giro per il nostro paese, per la nostra Italia, per il nostro Friuli, vediamo che ci sono cantieri dove non c'è neanche il cartello obbligatorio che prevede il diveto d'accesso e tutto quello che ne consegue. Vorrei proporre a questo punto le considerazioni di Adriano Luci, che è presidente appunto del gruppo Luci. All'interno del gruppo si segue praticamente da diversi anni, da diverso tempo, un progetto che mira alla sicurezza. Possiamo dire che questo è un gruppo virtuoso da questo punto di vista. Ascoltiamo le parole di Adriano Luci. Prima di tutto considero che il rischio zero non esista. Di conseguenza dobbiamo partire da questo presupposto. Ma detto questo, io credo che il lavoro che noi stiamo facendo ormai da 30 anni, per cercare di, in qualche modo, introdurre, posso usare un termine magari anche più fuori, inculcare il fattore sicurezza nell'ambiente di lavoro, questo è un impegno che da 30 anni appunto ci vede presenti e che continuiamo a portare avanti e che vediamo che effettivamente ce n'è ancora bisogno, ma anzi ce n'è soprattutto sempre più bisogno. E questa è la cosa che ci preoccupa di più. Ci preoccupa di più perché vuol dire che la cultura della sicurezza è ancora molto indietro rispetto a quelle che sono le effettive esigenze degli ambienti di lavoro. Allora partiamo dal presupposto che parlare di sicurezza si deve partire dalle basi e quindi mi consento al termine dall'asilo, dall'asilo, dalle scuole elementari, dalle scuole primarie. Perché? Perché deve essere un comportamento, un modo di essere, un modo di comportarsi. Quindi insegnare la sicurezza da subito ai nostri giovani ragazzi è fondamentale affinché poi queste persone che mano a mano acquisiranno competenze, saperi, lo facciano sempre in un contesto di sicurezza. Quindi io credo che ci sia un grande lavoro da fare, che ci sia bisogno di tutte le componenti sociali e senza scaricare le colpe a nessuno, bensì ognuno di noi fare quello che può fare per migliorare questa situazione. Perché purtroppo in questi ultimi giorni abbiamo visto uno stilicidio, una cosa inaudita, inaudita, però succede. Dobbiamo domandarci perché succede e dobbiamo cercare di capire cosa effettivamente ognuno di noi può fare per migliorare. Pezzetta, ha sentito le parole di Adriano Luci? No, no, senz'altro. Quindi creare questa cultura fin da... però io vorrei dire anche, per levare anche un velo di ipocrisia, si parla molto anche di industria 4.0, dove magari lì tanti parametri sono assolutamente più rispettati, ma noi parliamo di un 10-15% dell'occupazione. Il 90% sta dentro terziario, sta dentro gli appalti, sta dentro il precariato, sta dentro questo mondo qua, che rappresenta grosso, ed è il mondo dove avvengono tutta una serie di infortuni, delle recrudescenze. Perché avvengono? Non perché non si rispettino magari burocraticamente le norme, ma perché quando tu scarichi tutto il costo del lavoro su questa impostazione qua, è chiaro che tu alla fine, se magari diventi rispettoso anche nelle modalità organizzative, magari sei fuori mercato. Per cui, certamente c'è una cultura, ma deve partire anche da come io sto dentro un sistema, e su questo tema qua, è importante che anche il governo, i governi, governino la situazione, scusate il bisiccio di parole. Ad oggi non è stato così, è stato lasciato tutto al libero mercato. Il ruolo del sindacato, quindi, a questo punto, quale può essere? Cosa potete fare voi, lavorando insieme? Non è facile. Noi adesso abbiamo, anche chiesto un incontro alla Regione, come Cisie Decise Will, abbiamo varato una piattaforma soprattutto per rafforzare anche sistemi ovviamente di vigilanza e quant'altro, con una serie di punti. Ed è chiaro che c'è questa cultura, che noi continuamente anche parliamo con i lavoratori, questo confronto, questi accordi con cui ci rapportiamo anche con le aziende, con il mondo del lavoro. ma io torno a ribadire, è un lavoro, è, diciamo così, un percorso di sistema, tutti devono fare il proprio compito, il proprio ruolo, sono, altrimenti, se noi ci rimettiamo soltanto, magari ad analizzare un solo aspetto, dicendo, ma vanno osservate le norme, secondo me stiamo inquadrando nel modo sbagliato il tema, nel senso che è chiaro che vanno rispettate, ma non dal punto di vista, come dico, burocratico. le cartellonistiche sono dappertutto, ma se io devo consegnare quello entro un minuto, perché se no perdo la commessa e devo lavorare, magari ieri ero panettiere, oggi sono in siderurgia, fra tre mesi lavoro magari nella meccanica, qualcuno mi deve spiegare, quindi la flessibilità anche nell'adeguarsi ad altri. Questo modello di precariato che è stato adottato come ineluttabile, ovviamente noi non siamo macchine, non mi si può dire che queste siano le condizioni migliori per lavorare in sicurezza e purtroppo poi i dati dimostrano contrario. L'ultima battuta, perché poi andiamo in pubblicità. Sicuramente il precariato può avere un'influenza notevole, nel senso che il passare da attività diverse, passare da fare il panettiere, che comunque può creare dei problemi, perché ci sono le macchine, a fare il macellaio in una salumeria, se io non sto attento, mi porto via due ditta. Cioè voglio dire, c'è la necessità di capire a cosa va incontro. E probabilmente quando si fa la formazione, bisognerebbe anche fare un test per vedere se il lavoratore ha capito veramente. Ha capito effettivamente. Ha capito veramente, perché non può bastare una formazione più o meno seria, ci sono tantissime aziende che la fanno in modo serio, per l'amor di Dio, ma quello che conta è capire se il soggetto sa bene, ha recepito. Ha fatto proprio, in sostanza. Ha fatto proprio. Il nostro compito è quello, guardi, io due settimane fa sono andato dal mio carrozzere, che è una bellissima carrozzeria, attrezzata e tutto quanto, e ho detto di tutto a un suo dipendente, perché lavorava senza mascherina, mentre stava... Ma gli ho detto di tutto, ma di tutto. E questo compito aspettava altrimenti. No, ma anche lui, però, voglio dire, sai, voglio dire, tu hai dei compiti, se poi, mentre non ci sei, uno, io me l'ho visto, gli ho detto di tutto, perché poi c'è un discorso degli orari, no? Purtroppo, questa storia qui degli apparti fa sì che si facciano più ore dell'orologio e umanamente, umanamente, a lungo andare, uno quando ha fatto otto ore, ne ha fatte già abbastanza, se ne fa dieci, undici, dodici ogni giorno, alla fine, e qui parliamo, o si fa male per strada o si fa male sul lavoro. Grazie a William Pezzetta, grazie a Paolo Mason, ci facciamo una piccola pausa, ci ritroviamo qui in studio tra qualche istante, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, ci hanno raggiunto Leonardo Cacchione della Pratica SRL e Luigi Oddo del segretario della Wilm di Udine, Wilm Wil Udine. Buongiorno, grazie anche a voi per essere qui, avete seguito gli interventi appunto di Pezzetta e di Mason. Vorrei sentire a questo punto le considerazioni del formatore di chi è impegnato a formare nelle aziende, sia gli imprenditori che gli stessi lavoratori. Dobbiamo dire la verità, le normative iniziano ancora negli anni 50, poi nel 94 sono arrivate le direttive europee che si sono sviluppate. Abbiamo un po' troppa burocrazia, troppa burocrazia perché? Perché sostanzialmente le normative sono fatte per le megastrutture, per le megaziende e noi siamo fatte di un territorio che è di medio e piccole aziende. Quindi l'imprenditore che investe nell'ambito della sicurezza purtroppo dedica molti di questi investimenti sulla burocrazia, sulla documentazione anche perché l'organismo di vigilanza quando poi viene a fare controlli prima cosa che controlla hai fatto la valutazione dei rischi, hai fatto la formazione, quindi tanti documenti. Poi alla fine immaginiamo un'azienda medio-piccola che investe costantemente sulla conformità normativa, forse non sempre, non sempre, sarà anche una questione di cultura, ha la possibilità di dedicare gli investimenti a quella che è la formazione. Non ultimo, mi permetto di aggiungere l'evoluzione delle cose, quindi se io non ho una grossissima professionalità, giustamente prima i sindacati dicevano se una persona deve cambiare posto di lavoro, cambiare azienda, cambiare mansione nell'arco della sua vita lavorativa, forse non sempre troviamo delle professionalità adeguate, perché se uno fa il carpentiere, dopo fa il muratore, dopo fa il carellista, bisogna affiancare queste persone. Un esempio è la formazione on the job che si sta sviluppando in questi anni, che è quello di affiancare il lavoratore per spiegargli il lavoro, perché la sicurezza non è fine a se stessa, è una parte della professionalità e dell'esperienza. Ecco, volevo sentire anche dal punto di vista della UIL, visto che anche lei mi pare che segua le problematiche sul posto di lavoro anche della sicurezza, cosa è? È referente lei per il sindacato? Anche Mason mi sembra, no? In realtà di segretario io entro nelle aziende e non c'è assemblea dove non si parli di sicurezza, almeno in quelle fabbriche dove... Per lo meno se ne parla. Ma ci sono diversi elementi che concorrono a fare una buona analisi di ciò che sta accadendo. Noi abbiamo un sistema nel quale abbiamo, si è detto, delle ottime leggi, abbiamo anche la nostra in parte autogestione, noi abbiamo i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'azienda, i quali sono dei soggetti che vengono formati per raccogliere le stanze dei colleghi e presentare all'azienda, ma qui c'è un primo step che è quello che questi sono dipendenti che lavorano in stato di soggezione nel più delle volte e non sono ultra protetti come dovrebbero esserlo e quindi a volte un'istanza che richiede un intervento pesante anche di denuncia non viene fatto. Non perché non debba essere fatto, ma perché c'è il timore che quando si lavora in aziende da solo in quella maniera ci sono pressioni psicologiche anche di altra natura. Faccio presente che senza fare grandi pubblicità qualche delegato alla sicurezza viene pure licenziato. Perché significa che c'è la prima condizione di come lavorano le persone che stanno nelle aziende. L'altra questione riguarda proprio i subappalti di cui si parlava prima. Infatti. I subappalti hanno un problema dove le aziende fanno la gara a chi offre meno a chi con meno soldi fa il lavoro. Ci sono due aspetti incompatibili. O si fa la qualità o si fa la quantità. Le due cose insieme non possono stare. Succede che quando c'è un infortunio grave o mortale che sia noi abbiamo dei costi. c'è l'INAIL che gestisce gli infortuni c'è l'IMSS c'è la sanità. Dal momento che questo è un costo sociale perché non immaginare di fare in modo che la sicurezza diventi un costo collettivo fuori dai preventivi. Perché è l'unica strada per obbligare le persone a lavorare con la calma per come si deve lavorare di qualità sapendo che il costo dell'organizzazione è quello. Perché i prezzi bassi inevitabilmente si ripercuotono sulla sicurezza perché i documenti di regolarità cioè le tasse bisogna pagarle gli stipendi anche altrimenti la gente non lavora cosa si trascura? La prevenzione e lì nascono i guai di cui noi siamo vittime ogni giorno. Ecco, volevo sentire ancora un contributo da parte di Adriano Luci che ci parla dell'esperienza diretta nella sua azienda per quanto riguarda la prevenzione. Sentiamo. Ecco, proprio per quanto riguarda la gestecco voi come avete operato nel vostro gruppo? Ma guardi, noi diciamo che negli anni abbiamo messo a punto delle iniziative sia interne che esterne quindi verso i nostri clienti per cercare di trasmettere questa cultura. E l'abbiamo fatto anche con dei metodi non convenzionali. Uno fra tutti è uno spettacolo che si tiene nelle scuole nelle fabbriche nei teatri dove in qualche modo viene un po' ironizzata diciamo il fattore produttivo piuttosto che dell'ambiente familiare. però in questa ironia diciamo che è molto profondo il segnale che arriva dove effettivamente capiamo che purtroppo l'atteggiamento che teniamo è un atteggiamento sempre superficiale rispetto a certi temi. E in questo modo credo che negli ultimi anni abbiamo toccato un qualcosa come 20.000 persone perché abbiamo fatto spettacoli in poi tutta Italia. E devo dire che questi spettacoli lasciano sempre il segno. A questi spettacoli poi partecipano anche delle persone che hanno subito degli infortuni e che oggi per fortuna la possono raccontare ma la raccontano in una posizione un po' difficile dove magari a qualcuno manca un arto qualcuno manca qualcos'altro. Cioè secondo me con un segnale molto forte. Ecco e credo che questo sia uno dei modi. Poi abbiamo adottato dei criteri all'interno dell'azienda dove trasmettiamo tutte le buone pratiche quindi condividiamo le buone pratiche ma condividiamo anche le cattive pratiche nel senso di capire cosa non si deve fare per lavorare in sicurezza. Sono piccoli accorgimenti che adottiamo nell'arco della giornata scambiandosi fra legali rappresentanti dell'azienda piuttosto che i dipendenti piuttosto che gli impiegati ecco in maniera di poter essere sempre sensibilizzati su un tema che io dico alla mattina dobbiamo partire da casa per andare al lavoro e alla sera dobbiamo ritornare a casa provenienti dal lavoro ecco questo credo sia fondamentale. Molto bello l'intervento di Adriano Luci no? Tra l'altro regole chiare semplici facilmente applicabili certezza del diritto sono gli strumenti che servono per trasformare nobili principi in misure efficaci delle considerazioni emerse proprio nel corso di un incontro sulla sicurezza recentemente in Confindustria a Udine assolutamente sì e sono le piattaforme di base sulle quali ragionare c'è però un parametro che non sempre viene preso in considerazione che è il mercato i grossi nomi internazionali danno moltissimo lavoro alle nostre imprese anche friulane e ormai vige il fatto che vengono loro a controllare se sei in regola non voglio fare dei nomi però vanno in azienda a vedere se il loro destinatario degli ordini e quindi il prodotto che esce col nome della mega azienda rispetta tutte le regole quindi vede la normativa c'è abbiamo detto ce n'è tanta la professionalità manca un po' dall'altra parte però il mercato corre molto più veloce delle norme quindi dobbiamo darsi un taglio cioè dobbiamo dire il mercato avrà delle regole sue l'azienda ha regole sue l'amministrazione pubblica con il diritto dei lavoratori altre o facciamo dei passi avanti oppure subiremo costantemente quindi lavorare tutti insieme praticamente è indispensabile che tutta la filiera lavori a stretto contatto Oddo è difficile questo io punto molto sul fatto di valorizzare come dire il ruolo dei rappresentanti interni perché sono i primi a vedere le cose che vanno o non vanno facciamo un esempio quando si dice devono avvenire gli ispettori le ispezioni di contatto tutti dobbiamo sapere che ormai Italia che ha fatto tra la politica e i vari governi ha ridotto gli ispettori ad essere spettatori di quello che succede quando un organismo di vigilanza va in azienda e fa una multa quello non è un successo è un fallimento perché c'era qualcosa che non andava perché pagare soldi in multa in sanzione e non spenderli per fare prevenzione quindi non è quello che ci interessa far prendere le multe ma prevenire il tutto quindi il fallimento sta proprio lì allora il punto è se nelle aziende c'è l'organizzazione sindacale che ha le sue strutture e la norma è fatta per collaborare con le aziende noi dobbiamo avere lavoratori sicuramente più attenti e meno distratti perché da lì nasce anche una buona parte di infortuni purtroppo le persone hanno questa condizione di soggezione vogliono correre qualcuno che è precario pensa poverino si illude che magari poi lo confermino ma così non è quasi mai quindi non vale neanche la pena correre e farsi male in questa maniera che tanto poi la conferma non la fanno perché oramai il mondo del lavoro è più speculativo nelle assunzioni che di sostanza molti dicono quanto risparmio si assumono in queste condizioni oppure no non guardano la professionalità quant'altro la questione sta andando male e quindi la necessità di aggiustare il tiro proprio già dall'azienda credo che sia il primo passo quindi educativo ma anche sanzionatorio le aziende sanzionano i lavoratori che non osservano le norme e lì fanno bene perché la vita è una non si può conclusione veloce due secondi dobbiamo già andare in sigla Cacchione a lei chiudere più efficace più efficace a tutti i livelli meno burocrazia più efficace quindi ringraziamo i nostri ospiti di oggi Leonardo Cacchione Luigi Oddo ringraziamo William Pezzetta e Paolo Mason grazie per averci seguito e noi con la rubrica Family dedicata alla salute e al benessere ci vediamo giovedì prossimo sempre alla stessa ora arrivederci a presto a presto a presto